Wuieii 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 Oh il setto è... Wuieii Wuieii se voglio funzionare eh? eh? ahahahah ma eri donna che mi fallo? beh no ahahah beh ragazze entrate al camotabili perché rite? beh ragazze al camotabili dai ora ci vediamo un bel film i capi ahahah ahahah entrate accomodatevi ci vediamo un po' il muro romantico per il record è il tuo gattico ahahah bravo ragazze entrate e accomodatevi che non è che? da mettiamo un timor romantico per rompere il ghiaccio Ma è a molti Catrina, io ti devo lasciare No, John Si, è stata dura Ma ho preso questa decisione Ma che faccia? Ma che dolce Cioè, ha preso proprio in faccia Catrina John Io ti devo lasciare No È stata dura come decisione da prendere, ma È questa No, John, dai, dammi un'altra occasione Ne hai avute fin troppe Aspetta, è fazzoletta, Luca Eh, lo sto cercando Ma me la rascolti Tassi, tasi, tasi Davide, dammi Vediamo, questo è possibile Poi me la presti E Dammi zwendete, sto a capire rifatte le cara se io sarebbe lui scegliessi voi ma lui ignorando che io sarebbe lui scegliessi voi quello che io l'arco amici a a a a a a epposte non ne bemmkre ma ne ci haglione Meeking works here ahhh, pica e le pizzi da e-, pica e le pizzi a-mim Pinideoria Grazie a tutti.